Ma come fa, come fa ad esistere un pneumatico per bicicletta che non si fora, antiforatura? Sì, certo, dura anche 10.000 km, non ha bisogno di manutenzione, no, non ci credo, non ci credo Allora a questo punto, te ne dico un'altra io, esiste anche la batteria del telefono che non si scarica mai E la socera che non rompe mai coglioni, no, dai, 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 non ci credo, non ci credo Allora, se ce l'hai, me la mandi, così io la provo e poi vediamo chi racconta bischerate Ovvia, o mandamela, vai Ragazzi, il mio amico aveva ragione, ma Remma quanto mi rompe, ha ragione, ha ragione Esiste davvero una gomma sul mercato che non ha bisogno di essere gonfiata, non si fora, resiste per 10.000 km e non ha bisogno di manutenzione La gomma in questione, eccola qua, è Tannus e devo dire che è una piacevolissima sorpresa Prima di continuare il video però, devo fare ammenda dei miei peccati E per farlo devo riconoscere che la mia diffidenza era mal riposta Infatti Tannus è presente anche in Italia, la potete acquistare anche su Amazon se volete Il costo, eccoci qua, questa è Tannus, il costo di questa gomma piena, una gomma che non ti fa forare È di circa 60-70€ a seconda della mescola e a seconda del tipo di battistrada Come dicevo la potete trovare anche su Amazon Dal 23 di novembre al 25 di novembre tutte le mescole sono scontate del 50% Adesso andiamo a vedere che tipo di gomma è questa e che cosa c'è dentro la confezione Allora, Tannus vi dà la possibilità tramite il suo store di poter scegliere il tipo di mescola, il tipo di battistrada e il colore Insomma, Tannus vi offre mille e mille diverse personalizzazioni Che vanno dal colore, classico, nero, ma lo troverete anche giallo, verde, blu, rosso O alla dimensione, io in questo caso ho scelto la 700x23 La 700x23 è la dimensione del battistrada Una dimensione molto ridotta che è più performante Inoltre il mio battistrada è completamente slick Vedete? Non presenta infatti nessuna forma di scolpitura del battistrada Il battistrada non è scolpito Questo perché? Perché a me serve una gomma per andare veloce in strada Eccola qua quindi ragazzi, questa è la gomma Tannus Una gomma che non pesa eccessivamente Considerate che questa gomma pesa circa 350-370 grammi La mia mescola è una mescola dura Per aumentare ancora di più la prestazione E si può montare su tutti i cerchioni a copertoncino Non è possibile montarla sui cerchi a tubolare Ok? Il montaggio è abbastanza semplice Dentro la confezione sono presenti tutti i kit di montaggio Come vedete la gomma Tannus è costellata di piccoli forellini passanti All'interno della gomma Questi forellini devono essere riempiti con dei pin rosso o giallo Che differenza c'è fra questi due? Beh cambia la lunghezza E questa lunghezza deve essere determinata dalla distanza O meglio dalla larghezza del vostro cerchione Più il cerchio è grande più il pin sarà grande di conseguenza Come si inseriscono? Beh è molto semplice Dovete affondarli completamente attraverso questo martelletto Che troverete nei kit di montaggio E dovrete disporli lungo tutti i fori Questi pin sono fondamentali L'inserimento di questi pin servirà a non farvi stallonare Diventa impossibile stallonare la gomma dal cerchio Questo ovviamente va a vantaggio della vostra sicurezza Mentre pedalate Il montaggio avviene con questo calza gomma Leva gomma Chiamatela insomma come vi pare La gomma ovviamente è dura È in questo caso molto più dura di un classico copertone Quindi avrete necessità di applicare una forza maggiore Questa gomma può essere usata fino all'usura totale del battistrada Ovviamente maggiore sarà il consumo Minore sarà la performance Il produttore la consiglia per 8.000 km Al massimo 10.000 Ha un peso di 350 grammi Che non è poi molto di più della somma copertoncino camera d'aria Quindi è un peso accettabile Pensate non dovrete più portare con voi attrezzi Come leva gomme, bombolette di CO2 O il gonfia e ripara Non tutti sono in grado di cambiare in strada una gomma Non tutti sanno usare le bombolette CO2 Anche perché quella è one shot O va bene o va male E se va male si rimane lì Questa gomma vi evita tutto questo fastidio Questo pneumatico è un pneumatico Devo essere chiaro fin da subito Che è perfetto per gli allenamenti Molti atleti professionisti Utilizzano infatti questo tipo di pneumatico Perché li libera da qualsiasi problema di foratura Infatti una volta montata Questa gomma non ha necessità di manutenzione Per chi fa gare di triathlon Per chi fa gare in bicicletta Questa gomma ha ancora un gap prestazionale Di circa un paio di chilometri orari Però non disperate Perché gli ingegneri Tannus Stanno lavorando alla riduzione del gap prestazionale Tra una gomma da gara e la gomma Tannus Bene ragazzi per oggi direi che è tutto Da parte mia, da parte di Tannus E dalla gomma Unbreakable Direi che è tutto Come sempre buon allenamento Ci vediamo alla prossima Ciao